Si è arrivata Tresi, meno male va. Quando si fa un numero a due bisogna essere in forma tutti e due. Lei mantenendo un po' il fisico e io aumentando la massa muscolare per far meno fatica a sollevarla. Primo spettacolo di mano a mano, lei ha iniziato a fare questo numero insieme. Questi verticali sulle maniche era piccolissima, aveva sei anni. Mi ricordo la prima volta che sono tempista, perché ero troppo piccola, talmente piccola, avevo due anni e mezzo circa, così, tipo te. Io e mie sorelle, io facevo diciamo il clown, come facevi te poi quando eri piccola, il clown con mio papà e mie sorelle. Nel circo si inizia così che il gioco, come hai iniziato tu, e poi è diventato forse il tuo numero insieme alle verticali di cui ti sei più specializzata. Però hai iniziato come passione giocando. Forse anche già da bambini capivamo la responsabilità, nel senso che io non vado a scuola, non vado a lavorare perché per forza mi piace, ma anche per necessità. Mi ricordo il debutto, quando ho debutato a fare mano a mano con te, quello me lo ricordo, mi ricordo anche avevo questo costume arancione. E lì ti sei responsabilizzata come la maggior parte dei bambini del nostro mestiere, come siamo stati io, sei stato tuo papà. Girando il mondo si cresce molto più in fretta, quindi ovviamente i ragazzi del circo, la maggior parte, sono molto più maturi perché appunto hanno delle regole già di vita quando sono giovani. Il ragazzo del circo inizia presto a lavorare e impara presto a sapere che nella vita ci sono dei doveri, che sono soprattutto quelli della famiglia, quelli del lavoro, quelli della vita. E adesso sarà la volta di tre, che a quasi due anni tra un po' lo metteremo sotto anche lui. Sendo sempre con noi negli spettacoli, dietro le quinte, davanti allo spettacolo, lui sta già, ha già capito dove si trova, penso come facevamo noi. Io sono convinta che mio figlio, tuo fratello, farà il numero di suo nonno, suo nonno Tachimieri, quello dell'uomo scimbiata. Speriamo che trae l'intera lui il nuovo uomo scimmia del circo Tachimieri.